un posto quando era ragazzino e allora c'erano cassetti e cassetti di strametti di affezio potrebbero essere bastigliati questo è quello che si trova confondo con diversi corti stagiani mentre la marina mi sembrava ovviamente ritoppata la figura della marina però l'inquadramento generale è molto semplice che si vede molto male, però è esattamente uguale a quello dell'ambiente che diceva la marina e questo potrebbe essere la parte alta della stanza perché noi i puni non ce l'abbiamo una parte alta e hanno ritoppato questi ambienti ritoppati e questa potrebbe essere questa specie di nicchia che viene fuori qui probabilmente noi ci sono due finestre nella stanza e dovrebbe essere un secondo mezzo in alto questo è questo? sì direttore facciamo un secondo un po' dove vado avanti al strumento o metteranno come direttore come? o no lei l'ha fatto anche questa è una situazione un po' da bella è di lato infatti grazie 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 grazie